PABLO ESCOBAR I narcos hanno gli occhi puntati su questa finca. Chissà che cosa può succedere. E trovano le tracce di un tesoro sepolto. C'è qualcosa qui sopra. Accidenti. C'è una X a segnalarlo. Secondo me c'è anche dell'altro. Ora, grazie a una nuova dritta... Armi, ha seppellito Armi. Il team si addentra pericolosamente. Nei meandri dell'impero di Escobar. Vogliamo andare in fondo alla questione? Forse è per questo che ci sorvegliano. E voi chi siete? Sloggiate dalla mia proprietà, chiaro?